Proprio sono rimasto basito e allibito stasera, ma poi a un certo punto ci ho perso pure le speranze e niente veramente, un Napoli che non ha un vero e proprio gioco, non ha fantasia del gol, non lo so, non lo so veramente. Complimenti all'Arsenal che si è difesa molto molto bene, ha cercato di ripartire in contropiede, bellissimo gol di la casetta sull'1-0, calcio di un'inizio dell'altro, dobbiamo dire che anche che Meretta ha messo una barriera che è proprio da schifo, assolutamente da schifo e niente. Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti qui in questo nuovo video. Sono finite le benzine, io dopo l'1-0 poco ci speravo, dovevi fare 4 gol, finita qui, stagione finita, stagione a parer mio fallimentare, assolutamente. E' ok che è il primo anno di Ancelotti, tutti i pretendevano Ancelotti, lo stanno criticando, ma se tu ad Ancelotti non gli dai i giocatori, porca di quella puttana, se tu non gli dai i giocatori, lui come può fare, doveva fare un miracolo, già è tanto che siamo andati, il primo anno di Ancelotti siamo andati ai quarti di Europa League, ma già è tanto, cioè se tu non gli dai i giocatori, non può fare nulla. Napoli, ripeto, secondo tempo che abbiamo attaccato, ma le occasioni vere e proprie non ce le abbiamo avute, pochi tiri in porta, più possesso palo, solo possesso palo, solo possesso palo possiamo dire che, ci possiamo vantare, tra virgolette, solo possesso palo, niente più, niente più, insigne che poi, non ne parliamo, poi gli vogliamo dare pure la fascia di capitano, gli vogliono da quello, beh è un buon giocatore che ride dopo, ma non stasera, anche in altre partite fatte da Napoli, che ride, e questo non è un capitano, non si può definire. Niente, finita la benzina, ovviamente voi volete mettere il Napoli contro il Liverpool ad ottobre, contro questo Napoli, ovviamente la preparazione atletica e fisica, non c'è, assolutamente, non c'è differenza, c'è una grande differenza, scusate. Niente, finisce qui, finita questa stagione, sembra comunque Forza Napoli ragazzi, oltretutto, al di là del risultato, io ti ferò sempre, anche se andiamo in serie D, per dir, ti ferò sempre la maglia, ripeto, al di là del risultato. Ma, io non ho nulla da dire, boh, che devo dire, delusione, amarezza e delusione, non posso dire che non ci abbiamo provato, eh, perché noi ci abbiamo provato, assolutamente, questo nessuno lo nega, ma se tu non concretizzi, non hai fantasia del goal, non puoi fare nulla, io poi ragazzi non mi incazzo con urlo, perché, ormai, vabbè, è tardi, è, ma poi pure, niente, stagione finita, fa alimentare, non è, non è una stagione, eh, non sufficiente, ma sufficiente, ma non più che sufficiente, poi ne parlerò un video a fine stagione, una stagione da sei, sei più, ma non, non oltre, sinceramente, non da sette pieno, e non da sei, non da sei e mezzo pieno, che ora sei secondo, vinti punti dalla Juventus, primo anno di Ancelotti, Asari ha fatto meglio, vabbè, questo è il primo anno, era di, di transizione, ok, ma se tu non gli dai i giocatori, non fai nulla. Buonanotte a tutti ragazzi, sembra comunque Forza Napoli, a noi non ci sono nessuno, ciao, finita il benzino, voglio, è frutta il benzino.